I comunitari e i compiti strutturali e soprattutto un applauso agli studenti, ai dirigenti, ai docenti che seguono i ragazzi in questo particolare e innovativo compito che è e lo ritengo molto, come amministratore, lo ritengo molto interessante perché attraverso i giovani, attraverso la conoscenza, attraverso l'apprendimento di alcune procedure si riesce a capire cosa accade nella pubblica amministrazione e soprattutto cosa accade in determinati settori che poi in quello delle opere pubbliche, almeno sono quelle che sono state fino ad oggi monitorate nei progetti che ci sono stati in questi anni progetti che hanno visto l'anno scorso, loro è il centro della verifica del centro di operazione giovanile, dello STEM, della gioventù e del teatro coperto in fondo al zona nord all'ingresso del lungomare